Buonasera telespettatori di Telequattro, benvenuti a un altro appuntamento, il primo appuntamento della settimana con Trieste in diretta e oggi staremo insieme fino alle 19. I nostri ospiti sono nella prima parte la professoressa Bruna Scaggiante che è presidente della sezione triestina della Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori e la professoressa Marina Bortul che è responsabile della struttura semplice Dipartimento Breast Unit dell'Auswitz. Dipartimentale. Dipartimentale? Ah perché mi hanno scritto DIP e ho dovuto un po', ma io direi che possiamo incominciare a parlare con la dottoressa Scaggiante di questo accordo, di questa alleanza, chiamiamola così appunto fra la Lilt, che è la lega italiana per la lotta contro i tumori e il Volley Club. Sì, intanto buonasera a tutti i telespettatori, questo è un accordo che per noi è particolarmente importante, un accordo particolarmente importante che nasce a livello centrale per quanto riguarda l'ente pubblico, l'Ilt, sede centrale, il Ministero della Salute, si colloca nell'ambito di un protocollo di intesa che è la Liltà con il CONI per la promozione dell'attività fisica. Noi ci siamo dati da fare in tutta la regione, anche le altre Lilt si sono attivate per trovare accordi di collaborazione, perché cosa? Per diffondere questa cultura della prevenzione attraverso la promozione dell'attività fisica, ma non solo, facendo alleanza con associazioni sportive afferenti al CONI, l'obiettivo è anche quello di portare all'attenzione non solo dei giovani, ma anche delle loro famiglie, l'importanza degli stili di vita, in particolare l'attività fisica. Noi siamo particolarmente orgogliosi perché questo protocollo fa una sottolineatura sull'importanza di accordi con associazioni che abbiano giovanissimi o quanto meno molto giovani tra i loro sportivi e quindi queste ragazze del Volley Club, e io ringrazio il Presidente Stefano Strami per aver aderito, sono particolarmente importanti perché sono il punto focale e di pregio di una lunga attività a livello regionale che ha tra le altre cose anche il Master Volley over 45, ma anche ha visto il Tavagnaco Calcio Femminile aderire a questa iniziativa, ma anche le veliste dell'UFO Poison del Tempus Fugit, quindi a fare alleanza con la Lilt per quanto riguarda l'attività fisica come azione importante per la salute e per guadagnare in salute sempre a tutte le età. Quindi ci mancavano le giovanissime, sono delle testimoniali eccezionali e noi siamo particolarmente fieri di questo risultato. È vero anche questo, no professoressa Bortul, quando sono i giovani a farsi portatori di determinati stili di vita, quando sono i giovani a farsi, in alcuni casi si dice addirittura quasi sentinelle, cioè le scuole utilizzano anche molto i giovani per portare avanti determinati discorsi, ha una valenza in più anche perché da un lato possono eventualmente appunto farsi portatori di determinate realtà all'interno della famiglia magari o anche all'interno degli amici eccetera, però c'è una generazione in più già consapevole dell'importanza di determinate attenzioni insomma. Quindi sicuramente sì, come in tutte queste cose quello che conta molte volte è l'esempio. Allora se io ho un buon esempio sicuramente posso trarne beneficio e quindi aver incentivato e aver trovato come testimonial dei giovani, delle giovani in questo caso è molto utile perché a questo punto rientra in quel campo ampio della prevenzione primaria di qualunque tipo di tumore che può essere della mammella se parliamo di breast unit ma può essere anche di altri tumori localizzati in altri distretti che è veramente importante portare avanti perché adottare adeguati stili di vita in termini di adeguata alimentazione, controllo del peso e adeguata attività fisica è sicuramente molto importante. Quindi riuscire a cominciare a farlo questo con i giovani e qui apro una parentesi, riuscirlo a farlo nelle scuole e quindi invocando il ruolo fondamentale degli insegnanti ma anche la disponibilità di determinate strutture fisiche dove poter palestre, dove poter fare questa attività fisica. Ho capito. Certo, chiudo la parentesi, sicuramente è importante e dopo portare quello che può essere il buon esempio nel contesto delle famiglie e quindi sicuramente questo è veramente dirimente. Prima di parlare ancora dell'accordo, noi abbiamo anche poi, le faremo vedere, anche le immagini credo siano le immagini del momento in cui la cosa è stata ratificata. Fra l'altro mi pare di capire che la cosa ha portato bene perché la squadra ha vinto nell'ultima partita che ha giocato. C'è un discorso che io vorrei fare con entrambe ed è un discorso che io periodicamente faccio, penso che la professoressa Scaggiante sa già dove voglio andare a parare. nel senso che è vero che in alcuni casi quando si parla di prevenzione, quando si parla anche di autopalpazione, per esempio, ormai l'autopalpazione del seno per le donne è un dato di cui si parla vorrei dire senza nessun tipo di pregiudizio, eccetera. Quando tocca al maschio che ha problemi, come diceva lei, in altri distretti, magari il discorso dell'autopalpazione può incontrare una sorta ancora di pruderì, magari non si insiste molto su determinate cose, eccetera, dove è altrettanto efficace. Io posso essere anche un testimone di questo tipo di cose se sono qua questa sera, però è un po' difficile. Vedete, io stesso poi non arrivo a dire quella cosa che è anche per l'uomo l'autopalpazione del testicolo. Se io non mi fossi, magari per caso, andato con la mano là, probabilmente adesso non sarei qua a parlare con voi, però c'è anche nel caso mio una sorta di pruderì, nel caso mio potrebbe essere addirittura vittoriana, però bisogna sfatare anche questo, anche perché mi facevano notare che un tempo la visita militare era il primo momento in cui si è fatta bene, il ragazzo esponeva il proprio corpo nudo ad un esame. Adesso fondamentalmente è abbastanza difficile che questo succeda. Adesso tornerà al servizio di leva per sei mesi, dicono. C'è un discorso, secondo me bisogna fare una precisazione molto importante che deve evitare di fare confusione. Noi parliamo quindi di prevenzione primaria, di prevenzione secondaria e di prevenzione terziaria e credo che la Bruna Scaggiante sarà d'accordo con me. Per quello che riguarda la prevenzione secondaria, sicuramente il discorso di imparare a conoscere la propria mammella. Conoscenza che può essere iniziata anche dalle fasi dell'adolescenza fino a quella che è l'età matura è una cosa importante. Ma non dimentichiamoci che per quello che riguarda la prevenzione dei tumori della mammella, la prevenzione secondaria si fa con la mammografia. Esistono i programmi di screening, esistono i programmi sui quali stiamo combattendo per identificare i percorsi per le donne ad alto rischio, ma sicuramente è la mammografia. Dopo c'è il discorso della prevenzione primaria, di cui abbiamo parlato, coinvolgendo le figure di queste giovani che devono fare, come giustamente ha sottolineato lei, le sentinelle, portare avanti questo concetto, vogliamoci bene, viviamo nella maniera più sana possibile. E dopo c'è il discorso della prevenzione terziaria, che è quella che noi consigliamo a tutte le signore che nella loro vita hanno avuto un incidente di percorso scontrandosi con un tumore della mammella, nel quale la raccomandazione di mantenere un adeguato stile di vita, di controllare l'eventuale aumento di peso e fare un'adeguata attività fisica diventa fondamentale anche per prevenire la recidiva. Io che sono però molto con i piedi pantati per terra, vi dico anche quello che può essere il mondo reale, perché naturalmente ad una donna che magari lavora alla famiglia, genitori anziani, è abbastanza difficile poter proporre di andare due o tre volte in palestra a fare un'ora di ginnastica per cercare di fare un'adeguata attività fisica che deve essere abbastanza moderata se non intensa. Vale la regola aurea di 10.000 passi, camminiamo un po' di più, facciamo un piano in più di scale, andiamo a prendere l'autobus una fermata più tardi. Questo è quello che faccio io personalmente che non ho assolutamente il tempo fisico di andare in palestra, ma che sicuramente può essere molto utile già per controllare e fare questo tipo di prevenzione. Sicuramente io condivido appieno quello che ha detto Marina Bortul e anzi insieme abbiamo fatto tanti percorsi per queste donne, compreso anche un programma per cercare di mantenere il peso forma o quantomeno perdere qualche chilo laddove è richiesto e soprattutto per promuovere l'attività fisica, cosa che non è molto facile, anzi io ho proprio sperimentato sul campo che l'attività fisica, la promozione dell'attività fisica è la cosa verso il quale le persone hanno più resistenza per il fattore che appena ha illustrato la professoressa Marina Bortul e anche per il fatto che non c'è abbastanza consapevolezza dell'importanza che l'attività fisica ha, ma soprattutto del fatto che per vedere dei risultati sulla salute l'attività fisica deve essere continuativa di un certo grado come impegno, per questo assieme da SWIT noi collaboriamo e sosteniamo i 10 mila passi, che è un modo semplice ed economico per mantenersi in attività ed è anche molto semplice da fare con un telefonino come quello che ho io che mi segna quanti passi ho fatto ogni giorno, per cui sulla media della settimana vedo un po' cosa è successo ed eventualmente riesco a recuperare con magari una passeggiata un po' più lunga eccetera. Per i giovani l'attenzione agli stili di vita è altrettanto importante, come è altrettanto importante quello che diceva lei, cioè il fatto che inizino intanto a conoscere il proprio corpo perché ormai c'è il Dr. Google che dice tutto e dice niente. La Lilt in quest'ultima campagna di prevenzione ha commissionato proprio un'indagine per verificare dove gli italiani e anche i giovani vanno a raccogliere le informazioni per la loro salute ed emerge un dato assolutamente inquietante. Cioè che vanno in rete? Vanno ad attingere a dei siti che non hanno nessun sostegno scientifico ma sono più cliccati semplicemente per il fatto che c'è una serie di promozioni che qua non sto a dire e che hanno anche un interesse economico in fondo e molto spesso abbiamo delle notizie cosiddette false alla quale molti aderiscono e poi fanno il passaparola e questo è estremamente inquietante perché questi ragazzi e anche gli adulti non riescono a prendere le informazioni da una fonte certa che è accurata scientificamente. Quindi per questo anche in collaborazione con Asuit noi laddove possiamo facciamo tanti interventi nelle scuole, uno degli ultimi li ha fatti la dottoressa Dellac dove a proposito di questo ha spiegato sia come le ragazze si devono comportare nei confronti della conoscenza del loro corpo e quindi in particolare della mammella per iniziare già a costruire la storia della prevenzione perché se fidelizzo me stessa alla conoscenza del mio corpo sarò più attenta ai cambiamenti che questo corpo ha e quantomeno ne parlerò con il medico, non certamente con Google, ecco questo vorremmo sottolineare. E però ha messo l'attenzione anche per i maschietti su questo fatto e in effetti tutti i maschietti hanno cominciato a risentirsi perché le ragazze sono più pronte ad accettare questi discorsi, i maschietti un po' meno, però su questo bisogna puntare in attesa che eventualmente ci siano altri sistemi di sorveglianza se mai verranno reintrodotti, non lo sappiamo. E quindi queste due azioni sono estremamente importanti, cioè conoscere il corpo, aderire agli sti di vita ma soprattutto farlo con personale qualificato professionalmente e non qualificato sui siti. Sì, 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 certo. E infatti la Lucarelli è stata la nostra testimonial dell'ultima campagna proprio portando questo grande messaggio delle notizie. Tra l'altro essendo poi lei una che sui siti naviga è ancora più importante che ha... Lei è stata estremamente colpita e coinvolta e oltretutto ha dichiarato che proprio con la Lilt lei non faceva tanto la prevenzione ma ha imparato a farla. Quindi direi che le cose avvengono quando ci sono delle fonti sagge, autorevoli che danno fuori le notizie con la coerenza dell'oggettività scientifica. Professoressa Bortul, lei ha citato prima lo screening, no? Come stand... ci sono risultati... cioè come dire... i risultati dello screening regionale, quello che viene fatto insomma credo per le donne dopo i 50? Dai 49 ai 69 anni con cadenza biennale, con cadenza biennale in cui le donne comprese in quella fascia di età ricevono una lettera di convocazione per l'esecuzione di questa mammografia che può essere localizzata per quello che riguarda la provincia, spero di usare il termine giusto provincia, a Trieste, a San Giovanni oppure a Mugia oppure a livello il carso da aurisina per poter eseguire questa mammografia che sottolineo viene letta da due radiologi certificati che leggono all'anno 5.000 mammografie e laddove i referti di questi due radiologi non dovessero collimare è prevista una terza lettura. Quindi diciamo l'esame è perfettamente attendibile. Viene fatto con cadenza due anni, naturalmente quello che è importante è avere un'adesione. Nel corso di questi ultimi anni, grazie a un lavoro capillare di informazioni che è stato fatto ad esempio anche da la dottoressa Della che per quanto riguarda Trieste è la referente per lo screening del colon retto e della mammella, abbiamo aumentato l'adesione e siamo arrivati al valore tra il 60 e il 65% che ci dice un buon valore. Ha significato fare la mammografia di screening? Sì, perché fatto questo noi abbiamo la possibilità di identificare nella stragrande maggioranza dei casi tumori sempre più piccoli che quindi possono andare incontro ad una cura migliore e naturalmente interventi più conservativi. L'altro problema sul quale bisogna accentrare l'attenzione e sul quale devo dire si sta lavorando molto anche a livello di regione ma anche in stretta collaborazione con le advocacy, mi piace usare questo termine di cui per quello che riguarda la Breast Unit di Trieste, la Lilt è sicuramente il partner primo, è quello di individuare le persone a rischio, perché per queste persone a rischio sicuramente il programma deve essere diverso, si comincia a parlare adesso di screening cosiddetto personalizzato, nel quale ad ogni persona viene dato il suo percorso, che non è detto debba essere uno screening ogni due anni ma ogni anno, ma quello è un percorso abbastanza lungo. Quello che volevo sottolineare riprendendo quello che diceva anche la professoressa scaggiante della sensibilizzazione dei giovani a conoscere il proprio corpo, sia per le femmine che per i maschi, secondo me bisogna fare assolutamente anche una precisazione, imparate a guardarvi anche la vostra pelle e imparate soprattutto ad evitare l'eccessiva esposizione al sole. Stiamo vivendo in giornate caldissime, i topolini credo fossero già abbastanza pieni e quindi bisogna educarsi perché non vuol dire non abbronzarsi, ma vuol dire cambiare quello che può essere l'approccio con il sole ed è fondamentale e questo si comincia da giovani, evitando anche quelle che possono essere le scottature dall'età infantile in su. Dovremmo chiamare prima o dopo, chiederò all'agenda sanitaria, se ci mandano la dottoressa Zalaude, che è un luminare in questo campo. Anche per fare una sorta di refreshment, però io lo ritenevo fondamentale. Tra l'altro poi ci sono anche dei casi, anche in questo caso c'è quell'attore australiano, mi sembra strano per dire che lui sia incappato in questo, perché in Australia dovrebbero essere più attenti a questo tipo di problemi. Hugh Jackman che ha avuto un tumore alla pelle, che mi pare di capire ritorna nel senso, quindi oggettivamente è il caso di fare attenzione, magari di prendere anche un po' da meno sole, non è che sia più imperativo. Sì, cambia il rapporto con il sole, senza eliminarlo. Ok, allora facciamo vedere intanto, torniamo a parlare dell'accordo e possiamo far vedere le immagini che si riferite, questo che momento è professoressa? Allora, questo è il momento in cui abbiamo incontrato prima di tutto la squadra, poi abbiamo avuto la presenza anche del delegato del CONI, responsabile del CONI locale, Giorgio Tirel, ma anche del responsabile del Friuli Venezia Giulia della FIPAV, Alessandro Michelli, che era insieme a Daniele Zucca. Quindi è stato un momento molto importante, eccoci qua con Alessandro Michelli e poi Giorgio Tirel qui, perché il nostro progetto è non solo quello di far di questa squadra un esempio di stili di vita sani, ma di lavorare anche in maniera continuativa e magari più estesa anche a livello regionale, nell'ambito delle manifestazioni regionali del volley, proprio per continuare a promuovere la necessità, sia per i giovani che per le famiglie, di adottare stili di vita sani. Quindi questo è l'inizio di una collaborazione che sarà sui lunghi tempi costante e ci saranno vari appuntamenti che coincideranno in parte con le campagne nazionali della Lilt e in parte con le attività sportive, locali, ma anche regionali della squadra. Ma così avranno, non so, il simbolo sulla maglia anche per, voglio dire, come funzionerà poi anche la sensibilizzazione? Beh, la sensibilizzazione funzionerà intanto con la nostra presenza attiva, anche con i nostri striscioni, piuttosto che i banner, eccetera, con la distribuzione del materiale e poi individueremo a seconda delle occasioni il modo migliore con il quale anche fare dei video con questi ragazzi per promuovere sui social la promozione appunto degli stili di vita corretti e chi meglio dei giovani lo può fare verso i giovani. Quindi è anche un lavoro quasi in divenire, nel senso, è brutto dire ve lo inventate di volta in volta, però è anche bello poter, come dire, sarà adattato alle varie circostanze. Sarà come dicono, come si usa dire anche adesso, mi pare in termini medico, sarà tailored a seconda delle varie... Esattamente, esattamente, e tagheremo. Ah, ecco, perché su questo già io sono meno attento. Quando si parla di stili di vita, no, professoressa Bortul, sembra quasi una locuzione, boh, è là, utilizziamola, no? Stili di vita, eccetera. In realtà che cosa c'è dietro proprio la terminologia stili di vita? Cioè non è soltanto una roba da dire così tanto per mettersi a posto la coscienza. Quando noi parliamo di stili di vita intendiamo regole precise, regole che servono a vivere meglio. Ecco, non è una roba di stili di vita, boh, vado a correre, eccetera. Vuol dire vado a correre, ma significa anche altro. Sì, ma non significa, non mi ricordo più chi lo diceva, vivere da malato per morire sano, assolutamente, è una serie che è una forma di educazione, di adottare delle regole che assolutamente non devono essere particolarmente rigide. E come le diete, insomma. Nel nostro ambulatorio che eravamo riusciti a organizzare nell'ambito dell'Aswit, grazie devo dire alla generosità della Lilt, nell'ambulatorio della visita avevo fatto un bellissimo poster che devo dire viene letto molto spesso sia dalle signore che dai mariti e che viene fotografato con quella che è la piramide alimentare. La piramide alimentare in cui in cima alla piramide praticamente ci sono i cibi che in teoria bisognerebbe cercare di evitare, scendendo verso il basso e arrivando alla base della piramide dove praticamente vengono date delle regole, evitare troppa carne, mangiare più pesce, l'alcol, attenzione, non più di un bicchiere al giorno, non il fumo, cercare di fare meno vita sedentaria, quindi forse un pochino meno tv e cercare magari di camminare. Quello che ho detto prima, se non c'è la possibilità di fare un'attività regolare che potrebbe non essere appannaggio di tutte le categorie, sia in termini di tempo ma anche in termini di soldi, perché bisogna guardare anche questo, sicuramente la regola di riuscire a muoversi un pochino di più, sicuramente può essere utile, quindi evitare eccessivi dolciumi, evitare bibite gasate, mangiare soprattutto frutta, mangiare soprattutto verdura, per quello che riguarda le donne nella prevenzione del tumore della mammella, le cosiddette brassicacee, quindi più cavoli, più cavolini di Bruxelles, quella categoria di verdure, sicuramente può aiutare, ma senza negarsi completamente tutto quanto, la vita ricordiamo ce l'evo. Poi è vero, le diete che funzionano meglio sono quelle in cui magari uno fa presente, guardi io se potessi non abolire del tutto questo e non abolire del tutto quell'altro. Sì, però con il sano giudizio, dimenticavo una cosa fondamentale, l'adeguata idratazione, che è molto più facile da dire che a mettere in pratica, quindi l'assunzione di almeno 1500 cc di liquidi, che può essere l'acqua, il tè, il brodo, l'anestra, quello che è. E infatti di questo non si tiene mai nella giusta considerazione. Sì, questo è vero, lo so perfettamente, anch'io dovrei bere un po' di più. Non esporsi troppo al sole, come ho detto, e quindi così. Ok, e Coca-Cola niente insomma? Che domanda difficile, sì, ho detto, non siamo talebani però. Una ogni tanto insomma. La prossima iniziativa che vede la Lilt qual è? Ci sono delle iniziative in programma particolari, non tanto voi siete sempre in giro ogni tanto. Sì, allora, possiamo anticiparla? Abbiamo una grande iniziativa che vede la coorganizzazione del Comune, che va, diciamo, sempre nell'ambito appunto di alimentazione e salute, ma non solo, che vedrà a Trieste il 17 di aprile il professor Luigi Fontana, che è il vero guru dell'invecchiamento attivo. dove parleremo proprio di questo aspetto in termini pratici per la popolazione, quindi sarà il Mib, l'appuntamento nel pomeriggio alle 16, ma parleremo anche di questo come un impegno per una società moderna che voglia avere sostenibilità e soprattutto voglia poter investire in IT Welfare e soprattutto nei giovani. Perché, tornando a quello che ha detto, quindi questo appuntamento non è da perdere, perché viene da Sydney dove ha un grande programma proprio su questo aspetto invecchiamento stili di vita. e a proposito di quanto diceva la professoressa Marina Bortol, volevo aggiungere che una delle regole più semplici sarebbe aderire alla dieta mediterranea, che è il nostro patrimonio culturale ed è anche una dieta ecosostenibile, eppure i dati che non ho fatto io, li ha fatti proprio l'ISTAT, dice che la maggior parte degli italiani non aderisce alla dieta mediterranea. Allora capisce che dobbiamo ritrovare le nostre radici culturali, non è difficile, ma dobbiamo fare un piccolo sforzo per ritornare alle nostre origini. Anche perché basta guardare la dieta di altri paesi in alcuni programmi televisivi per capire le nefandezze che ne vengono fuori. Siamo anche un po' oltre per dire la verità. Allora io ringrazio la professoressa Scaggiante e la professoressa Bortol per essere state con noi, buon lavoro, noi ogni tanto ci rivediamo per raccontare quello che fate quotidianamente e che effettivamente aiuta tantissime persone ed è un lavoro forse che si conosce poco sotto certi aspetti. Uno in genere ci sbatte contro per conoscerlo, però insomma, beata l'ora che esistono realtà come la vostra. Grazie per essere state con noi, buon lavoro. Volevo aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere per correttezza di informazione che il professor Luigi Fontana viene portato non solo in coorganizzazione con il Comune, ma anche con l'Aigo, che è l'associazione italiana dei gastroenterologi ospedalieri. Quindi ringrazio il dottor Fabio Monica perché è assieme a lui che stiamo lavorando per questo progetto così importante. Dopo la pubblicità cambiamo argomento. Allora, la seconda parte di Trieste in diretta sono in nostra compagnia Marta Vuc di Mondo 2000, collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, poi spiegheremo meglio, e Giorgio Cassoni della società Comunità e Famiglia Flui Venezia Giulia. Con loro parliamo di un progetto che si chiama Conosco, Capisco e Imparo ed è fondamentalmente un percorso di avvio al volontariato di giovani tra i 16 e i 19 anni. Sotto certi aspetti, una domanda che pongo ad entrambi, è il futuro del volontariato? Voglio dire interessare giovani di quell'età a questo tipo di esperienza? Direi di sì. Diciamo che il progetto è stato scritto proprio nell'idea di avvicinare i ragazzi tra i 16 e i 19 anni al volontariato. E' un po' il futuro perché ci permette di creare una piattaforma dove le offerte e la domanda si potranno incontrare e appunto dare la possibilità a ragazzi tra i 16 e i 19 anni, l'unico comune denominatore che abbiamo messo per questo progetto, qualsiasi tipo di ragazzo che provenga dalla scuola, da altre esperienze che possono essere professionali, oppure scuole a fini speciali o anche centri di aggregazione giovanile, possono partecipare a questo progetto. L'obiettivo appunto è di diffondere questo valore del volontariato tra i giovani e abbassare possibilmente quella che è la soglia di età, l'età media del volontario, che purtroppo si avvicina molto all'età pensionabile, quindi molto alta. Addirittura. Laddove invece, che cos'è l'Associazione Comunità e Famiglia Friuli Venezia Giulia? Non so se, credo che non siete mai stati i nostri ospiti. No, non siamo ancora stati i ospiti vostri. L'Associazione Comunità e Famiglia Friuli Venezia Giulia è un'associazione regionale che fa parte di una rete di associazioni a livello nazionale, mondo di comunità e famiglia. Noi crediamo nelle famiglie e portiamo avanti i progetti di relazione, cioè gruppo di condivisione, abbiamo un gruppo di condivisione a Trieste, un gruppo di condivisione a Udine, che non è altro che una specie di gruppo di auto e mutuo aiuto, dove però le persone stanno vicine in modo non... cioè partecine o persone che non hanno uno specifico problema, ma hanno desiderio di stare una vicina o dell'altra. Il Comunità e Famiglia fa, uno dei suoi scopi è anche fare condomini solidari. Io abito in un condomino solidario di Vilara, una comunità di famiglie, in uno spazio che ci hanno dato i padri gesuiti, di tutto il secondo piano di Vilara. Ah, non sapevo che... Adesso questo mi incuriosisce, poi dopo ripigliamo l'argomento, ma cosa si intende proprio per condominio solidario? Un po' intuibile, però... Sì, sono famiglie che vivono una accanto all'altra, ognuna ha un suo appartamento, condivino dei valori, fanno un po' quello che facevano una volta nei paesi, il buon vicinato. Noi abbiamo un qualcosa in più che stupisce un po' gli altri, noi condividiamo anche il portafoglio, infatti mettiamo tutto quello che guadagniamo in una cassa comune, prendiamo quello che ci serve per vivere, e a fine anno votiamo la cassa comune, la diamo all'Associazione Nazionale, che la utilizza per altri progetti simili. Questa è una realtà... Ci si può aderire come... C'è un percorso da fare, sicuramente, fra l'altro, il gruppo di condivisione, qua a Trieste, è iniziato nel 2001, e chi partecipava erano tutte persone con grande desiderio di comunità, e quindi era un percorso per arrivare alle comunità. Noi come comunità, fra l'altro, ci apriamo agli affidi familiari, e al territorio. Quanti siete più o meno? Attualmente siamo due famiglie, due famiglie. Ognuna ha i suoi affidi familiari. È molto curioso, anche molto bello come esperienza, insomma, un giorno magari ne parliamo... Volentieri. ...approfonditamente. Allora, intanto noi abbiamo delle immagini che De Sumo si riferiscano a quando il progetto è stato illustrato, credo, no? Ed è nella sala... Tessitore. In Regione, nella sala Tessitori, quella che ha quei sedili incredibili, ma va bene, insomma, questo è un altro discorso. Allora, quali sono... Al momento, a che punto è il progetto? Il progetto è stato finanziato dalla Regione su fondi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. È partito a novembre, dopo l'approvazione del bando, e siamo a buon punto. Diciamo, abbiamo... viene messo online con il 28 marzo, quando abbiamo fatto appunto la presentazione nella sala Tessitori, è entrato, è stato messo online il portale e si stanno accreditando le associazioni, oltre a quelle 18 che erano il partenariato iniziale, si stanno accreditando le altre e le scuole o i centri di aggregazione giovanile. Siamo a buon punto perché, diciamo, l'obiettivo primo era proprio creare questa rete, ampliarla, e mettere online questo portale che è un po' lo strumento che aiuterà sia le scuole che i giovani ad entrare in contatto con il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Da questo punto in poi inizia l'attività dei giovani, i giovani diventano protagonisti, entreranno a far parte delle associazioni e cominceranno a fare le loro attività di volontariato, che è stato costruito seguendo un po' l'alternanza scuola-lavoro e in questo avevamo appunto il prescire nell'esperienza del Collegio del Mondo Unito che ci hanno supportato e in quale modo? Affianchiandoli proprio ad entrare nell'associazione, a capire cosa vuol dire fare volontariato, capire qual è il valore di questa attività che fanno, il rispetto verso le persone che ricevono l'aiuto e poi appunto un follow-up alla fine dove si parlerà con i ragazzi per capire come è andata l'esperienza se è una cosa da continuare oppure in quale modo poter migliorare. Anche perché quando noi parliamo di volontariato individuiamo una galassia estremamente ampia, estremamente composita, nel senso può essere il volontariato quello collegato alla cultura, quello collegato anche allo sport in fin dei conti quello collegato anche a l'assistenza sociale insomma. Mi verrebbe da chiedere se è rimasto un collegamento fra appunto il mondo del volontariato attuale e il vecchio concetto di servizio civile che mi pare di capire che adesso molto di quel servizio civile è divenuto volontariato mi pare di capire non so se questo se vi avete riscontro entrambi ecco insomma. Sì è molto diverso secondo me perché adesso cioè l'idea del volontariato è l'idea che uno quando uno non conosce il volontariato è l'idea che si fa di uno che spinge una carrozzina ed è un'idea che hanno anche i giovani che non sono che non si avvicina al volontariato già dal nostro progetto si vede che abbiamo perché a parte tutto mi preme dire che siamo 18 associazioni in partenza che hanno fatto nascere questo progetto la sfida è anche quella perché mettere in rete 18 associazioni è stata un'impresa soprattutto perché dovevamo farlo in agosto in tempi stretti bisognava presentare il progetto ai primi di settembre ecco dicevo 18 associazioni offrono una vasta gamma nel mondo del volontariato veramente incredibile dall'associazione che si occupa della salvaguardia delle rondini dei rondoni dall'associazione ABC per i bambini chirurgici del burlo che si occupa dei bambini o nati che devono fare uno o più interventi e quindi accompagnano anche le famiglie in questo percorso c'è anche il sogno di Giulia vedo esatto c'è anche il sogno di Giulia che è sicuramente un'associazione molto conosciuta abbiamo associazioni che si occupano di famiglie con ragazzi che hanno dei problemi psicologici abbiamo associazioni che si occupano della salvaguardia del verde che accompagnano le persone in giro per il territorio per esempio per la carne al free track and throat abbiamo associazioni con ASD Trieste Atletica che mette in campo ragazzi normodotati con dei ragazzi che hanno dei problemi dove l'integrazione giocando è completa per non dire di tante altre associazioni veramente sì effettivamente già queste 18 danno un'idea estremamente varia e composita e complessa sotto certi aspetti anche dell'universo volontariato e quindi a maggior ragione un'iniziativa come questa che non voglio dire mette ordine non è corretto ma che mette in contatto chi volesse entrare a far parte di queste organizzazioni penso che sia un lavoro notevole però anche un po' difficile ma è difficile è notevole però i ragazzi sono estremamente curiosi e hanno anche il diritto di conoscere la più ampia possibilità di volontariato se parliamo dell'alternanza scuola-lavoro questo progetto il progetto Open Door si inserisce nel terzo anno della scuola superiore quando si avvia l'attività di volontariato di alternanza scuola-volontariato in questo modo molto spesso si viene a contatto con delle realtà sul territorio che non si conoscono che possono in realtà essere anche delle passioni quindi l'età giusta poi per appassionarsi e magari scegliere in maniera inconsapevole quella che può essere la loro futura vita anche lavorativa quindi Open Door crea questo ponte tra l'universo giovanile e poi appunto il mondo del volontariato e perché no quello del lavorativo domanda per entrambi molto spesso quando quando si parla con chi fa volontariato eccetera c'è un aspetto che viene sottolineato specialmente negli ultimi negli ultimi anni che è quello dell'eccessiva burocrazia è cambiata la cosa oppure c'è sempre sta cappa che tra l'altro credo sia purtroppo tipica del nostro paese ecco insomma non da quanto mi raccontano insomma abbiamo questo grande cambiamento nel volontariato che è la riforma del terzo settore dove sono presenti i primi decreti attuativi e per le associazioni non è assolutamente facile ma che per esempio per un'associazione come la vostra mi chiedo scusa per un'associazione come la vostra gli intoppi diciamo così burocratici da cosa sono rappresentati? Allora la riforma del terzo settore richiede una grande professionalità all'interno dell'associazione dove nelle associazioni spesso nelle associazioni piccole non c'è e quindi le associazioni piccole o ricorrono ad professionisti esterni ad aiuti esterni oppure sono costretti a mettersi oppure si mettono in rete o alcune le più piccole saranno costrette a uscire dal terzo settore quindi c'è anche il rischio diciamo così io non vorrei insomma oltre al rischio appunto di uscire dal terzo settore c'è il rischio anche che ci sia adesso per l'amor di Dio vado all'estremo quasi un non un impegno minore ma un impegno diverso proprio perché ci sono altre cose a cui dover far fronte mi par di capire forse sono un po' eccessivo in tal senso sì sicuramente le cose burocratiche a cui un'associazione deve far fronte attualmente sono veramente aumentate sono molto aumentate e nelle associazioni questo è visto come un grosso impegno perché non tutti i soci hanno anche la conoscenza o hanno conoscenza o hanno voglia di spendersi in pratiche burocratiche vorrebbero semplicemente fare volontariato tanti dicono io parlo con molti che mi dicono ma io a me io voglio far questo però anche i presidenti soprattutto però devo essere costretto ad occuparmi di tutto ciò che sicuramente non rappresenta nemmeno volontariato nel modo in cui io lo intendo ecco insomma voi invece mondo 2000 quali intoppi burocratici deve affrontare poi chiedo scusa c'ho una come si dice una questione in regia se mi dite l'ora esatta in cui dobbiamo chiudere perché prima non ho colto l'orario giusto il mondo 2000 è un'associazione di volontariato che nasce nel 2000 appunto ed è parte del collegio del mondo unito quindi abbiamo una vita un po' diversa lavoriamo tantissimo con i ragazzi del collegio e poi condividiamo le esperienze fatte con i ragazzi del collegio al di fuori con le altre associazioni e scuole del territorio noi abbiamo diciamo siamo un po' forse più fortunati perché possiamo avvalerci appunto del supporto di quello che è l'apparato del collegio quindi ci aiuta moltissimo effettivamente seguire tutta la parte amministrativa le richieste che vengono fatte dal terzo settore è estremamente impegnativa del resto il collegio del mondo unito è anche lui una onlus è anche un ente del terzo settore quindi noi bene o male ci aiutiamo a vicenda per quanto riguarda il resto dell'associazionismo open door questo ci ha anche insegnato in qualche modo è proprio creare la rete tra le associazioni risolvere i problemi insieme che poi aiuterà il terzo settore a risolvere quella che è l'inghippo burocratico probabilmente si creeranno delle reti di associazioni con scopi comuni o con competenze invece di mutua assistenza anche in tasse perché poi il volontario è un volontario cioè non è che si farà non andrà più ad aiutare perché c'è questo problema con la parte burocratica esiste anche l'alternativa delle associazioni di fatto dove di fatto si costituiscono non entrano in questo circuito del terzo settore ma possono continuare ad operare senza altro l'età appunto compresa dal progetto è quella appunto tra i 16 e i 19 anni che è l'età scolastica fondamentalmente adesso io e chiedo scusa se faccio sempre questa domanda ma è una cosa che mi incuriosisce e sotto certi aspetti temo le risposte ma la domanda la devo fare ugualmente il rapporto con le scuole com'è in questo in questo in questo senso cioè c'è attenzione c'è disponibilità oppure c'è un irrigidimento quando proponete determinate cose ma no direi che c'è una grandissima collaborazione questo è buono noi abbiamo iniziato e tra i partner abbiamo il prescire in cui abbiamo una lunga una lunga collaborazione e abbiamo una grande collaborazione con i ragazzi poi di tutte le scuole da Galilea al Petrarca a parte i ragazzi del collegio anche scuole verso Udine l'Uccellis abbiamo veramente una buona collaborazione con le scuole forse la chiave nei progetti che facciamo non imponiamo i nostri progetti alle scuole ma li costruiamo insieme alle scuole quindi le esigenze anche questo progetto in particolare l'esigenza dell'alternanza scuola volontariato è stata costruita insieme alla professoressa Lapornik e il suo staff dal Presciren quindi ci hanno dato poi quegli input come tutto quanto anche poi la veste grafica lo studio del tipo di comunicazione la diffusione del progetto è stato costruito tutto anche insieme ai ragazzi quindi come dicevamo all'inizio non è il nostro progetto noi siamo un po' i portavoce di quello che erano le esigenze delle scuole dei ragazzi e delle associazioni questo progetto ha trovato grandi attenzioni e grande proprio favore probabilmente perché tutte le 18 associazioni sono veramente entusiaste di questo progetto lo vediamo nelle riunioni lo vediamo sempre e troviamo lo stesso entusiasmo quando andiamo nelle scuole a presentare questo progetto fra l'altro troviamo anche insegnanti presidi che hanno già sentito parlare di questo progetto quindi voglio dire sono sempre più contento quando vedo che il mondo della scuola si apre alla società e a queste cose e sono contento di notare che almeno in questo è cambiato parecchio rispetto a quando andavo a scuola io del resto io andavo a scuola 40 anni fa per cui insomma guai se non fosse se non fosse cambiato però insomma nel nostro paese non ci sarebbe da stupirsi nemmeno se non fosse cambiato nulla stoccassero anche i programmi di italiano non sarebbe male ma questo è un altro è un altro discorso dunque la presentazione del progetto è avvenuta la scorsa settimana il 28 di marzo la scorsa settimana vi siete dati delle scadenze non so per accogliere altri soggetti ci saranno delle come si può dire delle farete il punto ogni tanto come funzionerà poi la vita a questo punto vorrei dire contraddicendo la vita quasi burocratica dello stesso progetto come andrà avanti la vita amministrativa è più bella amministrativa che burocratico abbiamo una serie di abbiamo un programma che va da qui fino a poi la chiusura di questa prima fase progettuale che corrisponde appunto con la chiusura del bando che sarà in agosto di quest'anno abbiamo aperto le associazioni quindi il portale è attivo possono cominciare ad iscriversi sia le scuole che le associazioni e i ragazzi possono cominciare a curiosare ovviamente per capire quale attività di volontariato può essere inserita abbiamo poi cercato di contagiare con questo progetto un po' quelli che sono i punti chiavi stakeholder su un po' di questa dell'attività sia educativa che del volontariato quindi abbiamo mirato all'ufficio scolastico regionale alla regione ai servizi educativi della regione abbiamo parlato con appunto l'ente il direttore generale del volontariato regionale e poi il centro servizi del volontariato dove abbiamo trovato un'ottima comunione di intenti e una grande volontà di progettare insieme quindi i prossimi passi sarà proprio una formalizzazione della collaborazione per rendere questo un po' lo strumento che collegherà effettivamente il mondo dei giovani al volontariato quindi chi ha piacere di fare volontariato potrà utilizzare questo strumento per arrivare poi nelle associazioni da subito abbiamo anche già avuto altre associazioni che sono in lista d'attesa per entrare a pieno regime nel progetto e anche le scuole stanno rispondendo bene quindi anche il vostro è un progetto in divenire insomma in sostanza come quello di cui abbiamo parlato prima insomma che volta per volta anche può se non modificare comunque tener conto e lo deve fare per forza delle nuove realtà che vi si iscrivono tra l'altro non solo in divenire il progetto ma non abbiamo nessuna intenzione di lasciare morire il progetto ad agosto quando terminerà ma intendiamo riproporlo perché credo che sia cioè da come sta andando penso che ci sia la necessità e proprio il desiderio di portare avanti ancora a lungo questo progetto e farlo fruttificare poi abbiamo avuto conferma proprio durante la presentazione del progetto che è un po' il primo portale in Italia che si sta occupando di abbinare desiderio di fare volontariato tra i giovani e poi quello che sono scuole e associazioni quindi un po' potrebbe diventare riprodursi o comunque allargarsi a diverse regioni se ci sarà la possibilità a noi ovviamente funziona tutto attraverso una programmazione progettuale noi lo faremo senza altro mi pare che non l'abbiamo detto forse era intuibile ma lo ripetiamo proprio anche perché in questo caso questo è uno dei casi in cui la rete il concetto stesso di rete e anche l'utilizzo della rete si rivela fondamentale certamente infatti un cioè il punto nodale del progetto è proprio la nascita di questo portale fatto dai giovani per i giovani dove appunto i giovani troveranno le offerte potranno verificare le offerte le associazioni potranno iscriversi e quindi la rete intesa come rete viene in aiuto alla rete associazionale allora chiudiamo questa puntata di Trieste in diretta io ringrazio Marta Vuc di Mondo 2000 collegio del mondo unito dell'Adriatico e Giorgio Cassoni dell'associazione comunità e famiglia FWG poi noi ci rincontriamo per parlare dell'altra cosa cui lei ha accennato vi ricordo che essendo lunedì questa sera alle 21 c'è l'appuntamento con il Caffè dello Sport e se tanto mi da tanto per quanto riguarda soprattutto uno degli sport principali della città sarà una puntata veramente da non perdere grazie a tutti Trieste in diretta torna domani come sempre alle ore 18 grazie a tutti